Il treno passa mentre una delle sbarre del passaggio a livello è aperto. Dall'altro lato le luci delle vetture con all'interno gli automobilisti increduli. Figurarsi quelli in attesa dal lato opposto della strada, dove la barriera è rimasta alzata. Da uno di loro, naturalmente fatti con lo smartphone, gli scatti che hanno dell'incredibile. E' accaduto a Venafro ieri sera, intorno alle 21.30, il treno diretto a Roma. Siamo in località Capanna. La stradina alla periferia della città è abbastanza trafficata anche alla sera, visto che nell'area, a pochi metri, sorge la piscina provinciale. Questa è la barriera che ieri sera non si è abbassata. Ma cosa è successo in realtà? Sembra che, avuta la notizia del problema, il macchinista abbia fermato il convoglio qualche centinaio di metri prima del passaggio a livello. Passano alcuni minuti e gli automobilisti, lì in attesa, vedono un operatore che era a bordo scendere con indosso una pettorina catarifrangente. Va a posizionarsi tra le auto e i binari. Solo a quel punto il treno, a velocità ridotta, riprende la marcia. Insomma, il sistema di protezione, in modo un po' naif, ha funzionato. Risolto il problema, il passaggio a livello ha ripreso a funzionare regolarmente. Ma c'è da scommetterci che, appresa la notizia, da oggi gli automobilisti che passeranno da qui, beh, uno sguardo in più ai binari lo daranno.